In questo video spiegheremo come si effettua l'esame obiettivo dei vasi periferici, i cosiddetti polsi arteriosi periferici. Va premesso comunque che questo esame, che pur è fondamentale nella diagnostica che ogni medico deve saper condurre, è superato da una semiotica cosiddetta strumentale che in effetti dà notizie molto più accurate sulla circolazione periferica, basti pensare all'esame di Eco-Color Doppler. Gli antichi semiologi avevano già da tempo utilizzato la palpazione dei polsi periferici per ricavarne notizie sia dell'attività del cuore sia dello stato di perfusione periferico del nostro corpo e avevano dato alla rilevazione del polso alcune caratteristiche che andiamo ad illustrare anche se sono ben note. Cioè il polso si apprezza nel polso, quello diciamo che maggiormente si prende in esame è il polso radiale che si vede qui alla base del radio prima dell'articolazione con il carpo e diciamo che si apprezzano varie attributi. Innanzitutto la frequenza che altro non è che l'onda sfigmica relativa alla contrazione ventricolare del cuore. Quindi quest'onda sfigmica noi l'apprezziamo e possiamo determinare quante volte avviene nell'unità di tempo che quasi sempre per convenzione è il minuto. Una polsazione regolare per frequenza va da un minimo di 60 battiti a un massimo di 90 battiti. al di sotto dei 60 parliamo di una bradicardia, al di sopra dei 90 parliamo di una tachicardia. In più il polso possiamo valutarne anche il ritmo. Il ritmo sta a significare che un polso è ritmico quando l'unità di tempo che separa un battito dall'altro è sempre costante. Laddove invece questo tempo diventa diverso tra un battito e l'altro abbiamo una forma di aritmia che è quasi sempre indotta da un'alterazione della contrazione miocardica specialmente del ventricolo di sinistra che può avere degli stimoli diversi e quindi si chiama in questo caso extrasistole che determina un'alterazione del ritmo. nel polso noi possiamo inoltre valutarne la sua ampiezza cioè questa è determinata da due cose dall'azione della forza della sistole cardiaca e della quantità diciamo del liquido in circolazione e quindi noi abbiamo in alcuni casi un polso pieno per esempio in un soggetto normale con una normale sanguificazione e invece un polso piccolo quando abbiamo una diminuzione della forza di contrazione del cuore o una diminuzione come accade nel caso dello shock della diciamo della volemia cioè della quantità di liquido che passa attraverso il sistema circolatorio. Altra cosa importante poi è la uguaglianza nel senso che si palpano a questo punto entrambi i polsi per vedere se sono sincroni o vi è una differenza della pulsatilità tra un'arteria radiale e l'altra. In realtà gli antichi semiologi aggiungevano anche altre caratteristiche al polso quali la tensione e però torno a ripetere erano queste sono delle diciamo attribuzioni che man mano hanno perso sempre più di significato perché noi possiamo grazie alla semiotica strumentale come ho detto un attimo fa ottenere delle informazioni assai più accurate. della pulsatilità del vaso periferico specialmente a livello brachiale noi ce ne serviamo per misurare la pressione arteriosa. Adesso chiediamo alla nostra Simona di potersi rimboccare bene lo sto facendo io bene la manica bene su e io mi sposto per prendere l'apparecchio con cui rilevare la pressione. La cosa avviene mettendo un bracciale al cui interno vi è una camera d'aria che si gonfia io circondo la parte alta del braccio di Simona con il bracciale prendo un fonendoscopio lo applico sull'arteria brachiale in corrispondenza dell'arteria brachiale e dopo comincio a gonfiare il bracciale adesso ho aperto la valvola per far determinare lo sgonfiamento della camera d'aria e percepisco il battito dell'arteria a 115 mm di mercurio e smetto di percepirlo a 70 mm di mercurio per cui in questo caso la nostra pazienta Simona ha 115 di pressione sistolica massima e 70 di pressione diastolica minima e così abbiamo rilevato la sua pressione che è una pressione ottimale e quindi sicuramente non deve avere nutrire alcun problema per ciò che riguarda la sua pressione che è normale. il polso carotideo si percepisce facendo ruotare in il viso della persona dalla parte opposta a quella della carotide che si vuole palpare e la si sente immediatamente lungo diciamo il margine del muscolo sternocleidomassoideo che sarebbe questo nel margine interno noi tranquillamente palpiamo il polso della carotide comune lo palpiamo da una parte e lo palpiamo dall'altra parte esatto benissimo poi scendendo in teoria ci sarebbe da valutare un polso su clavio che comunque quasi mai si riesce a percepire quindi procediamo con quelli di più facile rilevabilità come il polso brachiale alla piega del gomito del polso radiale già ne abbiamo parlato e scendendo verso gli arti inferiori il primo che si indaga alla piega alla radice della coscia la piega inguinale è quasi in una linea al di sotto del legamento inguinale diciamo fra i due terzi esterni e il terzo interno a questo punto si sente benissimo la arteria femorale scendendo lungo l'arto inferiore noi vedremo questa non è sempre di facile rilevazione ma nella nostra Simona si sente benissimo nel cavo popliteo al ridosso della tibia qui ci sono le due ossa di qua c'è il perone e di qui c'è la tibia al ridosso della parete interna della diafesi tibiale prossimale si apprezza la arteria poplitea gli ultimi due rilevamenti ultimi in senso distale dei polsi dell'arto inferiore sono il tibiale posteriore all'interno del malleolo mediale dove si apprezza l'arteria tibiale posteriore ed anteriormente fra il secondo e il terzo metatarso sul dorso del piede dove si apprezza l'arteria pedidia allora possiamo comunicare alla nostra Simona che tutti i suoi polsi sono validi e ben percepibili e che quindi da questo primo esame anche se io ho detto che poi c'è l'eco color doppler che ci dice tutto è meglio ma da questo esame fisico possiamo tranquillizzarla dicendo che la sua circolazione per ciò che attiene ai polsi periferici è perfetta grazie per l'attenzione e siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti sull'argomento contattandoci agli indirizzi e-mail che scorrono in sovraimpressione grazie a tutti